Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere le energie per i single per il mese di dicembre e iniziamo con il segno del cancro. Come dico sempre ragazzi le letture sono generali, sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso voleste contattarmi la vedete anche scritta qui e sempre in descrizione trovate i link ai video per i corsi del 2024. Bene, facciamo con un 4 di spade, un 3 di spade, un 8 di spade e un 9 di denari. Ragazzi devo dire che dicembre sarà piuttosto impegnativo a livello mentale e vi confesso che con questo 3 di bastoni ci potrebbe essere come una ferita che si riapre. 8 di bastoni una comunicazione. Va bene andiamo a vedere carta per carta perché qui abbiamo un 4 di spade al contrario e poi che è seguito da un 3 di spade, è come se non si riuscisse a guarire da qualcosa. Andiamo a vedere il 4 di spade, di nuovo 8 di spade che avete già qui. Abbiamo un 2 di bastoni e un re di spade. Allora credo che sia un'ideologia che avete inerente ad una persona nello specifico per qualcuno è una situazione ma si è come se se non si riuscisse come vi posso dire a guardare al futuro come se nella prima parte di dicembre ci fosse questa difficoltà ad uscire da un certo tipo di mentalità o di pensieri appunto se sono legati magari a una persona. Andiamo a vedere il 3 di spade. Oh diavolo. E 7 di pentacoli. Guardate questo 3 di spade potrebbe essere portato da un'attesa forzata cioè probabilmente vi farà soffrire il fatto di dover aspettare o di sentirvi le mani legate per certi versi. C'è anche un 7 di pentacoli che è una carta di attesa comunque. L'energia devo dire è un po' statica eh. È un po' è un po' troppo controllata o condizionata. condizionata dai pensieri perché l'otto di spade ce l'avete due volte ed è la carta dell'autosabotaggio. È come se foste voi a scavarvi la fossa fondamentalmente a furia di pensare in modo negativo. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Abbiamo un imperatore. E un 3 di bastoni. Allora devo dire che con l'imperatore mi si accende qualche speranza. Nel senso che verso la fine del mese ci potrebbe essere una o una persona in questo caso che inizia a darvi qualche spiraglio per il futuro qualche speranza. Inizia a farvi vedere le cose in modo diverso. È come se arrivassero delle sicurezze in più. C'è giusto una fase di attesa forzata durante la fase centrale del mese secondo me. se avete qualcuno che avete lasciato indietro credo che sia una sorta di momento di purga questo 3 di spade però ecco diciamo che verso la fine del mese l'otto di spade mi dice che siete giù di morale ma non è del tutto perso perché comunque c'è quest'imperatore e questo 3 di bastoni che mi fanno ben sperare al voler guardare oltre la situazione attuale. Andiamo a vedere anche il 9 di denari perché è una bellissima carta con cui finire la stesa. Abbiamo la temperanza al contrario e un 10 di pentacoli. Allora il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza ragazzi io credo che qui ci sia come da pulire semplicemente i vostri pensieri capire che cosa vi condiziona perché io non credo che sia una situazione o una persona ripeto avete due 8 di spade sono i vostri pensieri che vi condizionano è come se aveste bisogno di creare più flessibilità in quello che pensate cioè non è sempre solo bianco e nero ci sono anche le sfumature di grigio e comunque con questo 9 di pentacoli appunto mi fa ben sperare perché è una carta di forte indipendenza ed è una carta di amor proprio allora può darsi che vedendo la temperanza al contrario non ci sia ancora del tutto una guarigione vi ricordo che anche il 4 di spade è una carta di guarigione sono entrambe al contrario però è già un'energia più forte di quella del 4 di spade quindi ci state lavorando vi dico c'è anche un 10 di pentacoli 9 e 10 quindi è come se foste portati in questo mese a trovare alla fine un certo tipo di concretezza anche grazie all'imperatore 10 di pentacoli è una carta di forte ricchezza materiale e anche il 9 di pentacoli può essere anche una ricchezza a livello di carattere ma anche a livello di amor proprio sono collegate al terzo chakra tutte e due le carte ed è una carta di compimento di risultato raggiunto di premio di traguardo anche di famiglia felice però è come se alla fine del mese incontrasse una vostra indipendenza una vostra felicità un vostro appagamento una strada verso la sicurezza e qui intendo proprio a livello di amor proprio per qualcuno si che si tratta anche a livello monetario ok però vi dico allora se proprio non avete nessuno l'imperatore può rappresentare una persona che andrete a conoscere ma vi dico che potrebbe essere molto più grande di voi o molto più piccolo adesso dipende da che età avete potrebbe essere una persona molto più ricca e vi dirò che potrebbe anche ho questa sensazione che potrebbe essere un personaggio pubblico in vista va bene me lo scriverete poi nei commenti a fine mese non mi scrivete a inizio mese non è successo niente a dicembre perché c'è qualcuno che lo fa a inizio del del mese delle previsioni quando ascolta le previsioni mi dice non è successo ancora niente eh ma deve ancora passare tutto il mese va bene andiamo a vedere pensa con ottimismo alla tua vita amorosa vi ricordo tutti questi otto di spade che avete io non sono all'altezza io non sono abbastanza non vedo via d'uscita succedono tutte a me io sono la vittima questo è un po' il mood dell'otto di spade ok quindi pensare positivo avere fiducia ti porteranno all'amore infatti come se sintonizzasse sintonizzandosi su certe vibrazioni ad un certo punto si attira poi quello che risuona con quella vibrazione alchimia c'è una forte attrazione magnetica tra voi infatti come se magicamente a fine mese cambiasse l'energia fatemelo sapere nei commenti perché secondo me passerete le prime tre settimane del mese più o meno in una modalità un po' appunto di condizionamento mentale ma poi si aprirà una porta se non un portone verso la fine del mese ragazzi bene amici del cancro questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere nei commenti se avete piacere potete mettere like iscrivervi condividere il video abbonarvi al canale vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao benvenuti alle persone dello scorpione anche per voi andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di dicembre vi ricordo che sono letture generiche sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto se non risuonasse nullo se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare oppure venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi la vedete anche scritta qui sempre in descrizione ragazzi c'è anche il link ci sono i link ai video per i nuovi corsi del 2024 bene andiamo a vedere per lo scorpione imperatrice imperatore wow ragazzi vengo dall'energia del cancro che è stata veramente pesante la vostra è super e come vi posso dire crescente imperatrice imperatore qui ragazzi gattacicova nel senso che quando escono tutti e due insieme si tratta proprio di una coppia karmica quindi non è detto che per molte persone si incontri la persona giusta per voi in questo momento di vita non ho detto la persona che è per sempre ho detto la persona di cui avete bisogno in questo momento di vita quella che combacia con voi per il tipo di maturità che avete diciamo così è la coppia per eccellenza bene sono due carte comunque che parlano anche di una forte concretezza per qualcuno potreste essere colleghi vi dirò però vedo che da questa conoscenza in avanti poi ragazzi si apriranno una serie di strade possibilità andiamo a vedere carta per carta ok allora 6 di scusate il sole chissà perché ho detto 6 il 9 l'eremita il 3 di spade allora se avete già qualcuno in testa vi dico che ci potrebbe essere un senso di solitudine e di isolamento e per molte persone la prima parte di dicembre fa riferimento a diciamo mettere in piedi un nuovo progetto per cui c'è bisogno di star da soli tenete presente che la carta del sole è anche una carta che fa riferimento agli amici alle amicizie ok quindi si può trattare di una sorta di allontanamento magari dalla vita sociale proprio per dedicarsi a creare un nuovo progetto o per qualcuno a fare una sorta di introspezione per eliminare questo dolore per elaborare questo dolore di cui ci parla il tre di spade andiamo a vedere l'imperatore nove di bastoni e asso di bastoni dunque da un lato c'è il sistema difensivo in alto dall'altro c'è questa passione questa voglia di muoversi questa voglia di fare di andare di agire tenete presente che l'asso di bastoni fa anche riferimento a un incontro di tipo intimo e ce l'avete esattamente sotto l'imperatore ragazzi quindi usate mi raccomando proprio con questa carta abbiate rapporti protetti perché questa è proprio una carta di protezione andiamo a vedere il rotto di bastoni 8 di bastoni 8 di bastoni si è ripetuto due volte la giustizia al contrario oh che interessante qui ragazzi a fine dicembre arriva qualche comunicazione che non vi aspettate tenete presente che l'otto di bastoni è un acceleratore delle carte che ci sono vicine o perlomeno e come lo sento io ok e abbiamo poi un 7 di coppe dopo datemi una carta per la giustizia come se ci fosse qualche tipo di intoppo da quando arriva questa comunicazione nell'avere un'idea un po' più chiara su quello che è il futuro perché effettivamente si aprono delle possibilità adesso le andiamo a vedere però qui c'è qualche cosa che non è in equilibrio ragazzi con la giustizia al contrario ci potrebbe essere qualche questione che non è chiara qualche questione che è da portare a galla da regolarizzare può fare anche riferimento a qualche illecito carro e regina di denari guardate ragazzi penso che sia un qualche cosa che inizia in modo anche abbastanza forte nel mese di dicembre con qualcuno perché poi avete appunto imperatore imperatrice e gli amanti e la giustizia come se ci fosse qualche cosa che dovesse regolarizzare per giustizia divina c'è anche questo tre di spade qui è come se la relazione con questa persona potesse darvi la possibilità di rielaborare un vecchio dolore vi dico e ci sono poi degli sviluppi molto interessanti qui perché abbiamo anche la carta degli amanti ora vi dico che all'inizio perché il carro è il contrario come se sì le possibilità si aprono ma ancora non si ha bene chiaro da che parte si voglia andare qui ci potrebbe anche essere una questione legata ai figli nel senso che lo sento risuonare per un gruppo piccolo però è come se ci fosse qualcuno che si sta facendo dei dubbi sul se vuole figli o no ed è come se fosse un tema importante da comunicare prima di iniziare questa relazione andiamo a vedere un angelo del cuore vediamo cosa vi dicono ecco fidanzamento la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato sì ragazzi vi dico qui le possibilità si aprono c'è una bellissima carta degli amanti alla fine della lettura una carta di armonia una carta dell'amore con la maiuscola diciamo quindi è come se si stesse arrivando finalmente a un qualche cosa di concreto sento che entrambe comunque siete due persone che uno vi siete già incontrate in qualche vita passata due avete già raggiunto per qualcuno più o meno diciamo lo stesso bagaglio esperienziale esperienza sì vabbè avete capito e nel senso che sia una persona davanti della stessa dello stesso spessore vostro ok bene fatemelo comunque sapere nei commenti che mi fa sempre piacere leggerli se comunque la lettura vi ha dato degli spunti interessanti potete farmelo sapere con un like se volete potete iscrivervi al canale condividere il video o abbonarvi io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao benvenuti anche alle persone dei pesci andiamo a vedere anche per voi le energie disponibili per il mese di dicembre come ricordo sempre le letture sono generali sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto se non risuonasse nulla se voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente il segno lunare oppure venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi la vedete anche scritta qui e trovate anche i video il link ai video per i nuovi corsi che partiranno nel 2024 bene andiamo a vedere pesci due di spade regina di bastoni 10 di spade 9 di coppe 3 di coppe ragazzi qui vi vedo in una fase dove prendete un po' in mano le situazioni della vostra vita e vi dirò che dicembre lo sento piuttosto allegro piuttosto spensierato diciamo così andiamo a vedere carta per carta che cosa vi vogliono dire però partiamo da questo due di spade due di spade quando è il contrario come l'aver preso una decisione l'uscire da qualche tipo di dubbio il vederci più chiaro andiamo a vedere la torre e l'asso di bastoni è come se aveste preso consapevolezza di qualche tipo di azione o da non fare o che è stata fatta e e diciamo probabilmente è stata questa azione che aveva fatto venire questi dubbi ma è come se avesse già fatto un lavoro di introspezione e avesse fatto cadere con questa torre le sicurezze che avevate fino a questo momento diciamo che è come se la prima settimana di dicembre fosse una sorta di presa di consapevolezza quando c'è la torre perché cascano le certezze e la certezza può essere anche il sono certa di non piacergli e invece poi no gli piacete o le piacete insomma quindi vi dico c'è un'azione in mezzo perché abbiamo un asso di di bastoni e per qualcuno è l'idea o l'approccio che si ha l'incontro intimo è come uscire da un dubbio andiamo a vedere la regina di bastoni 5 di coppe mago 5 di denari wow e stella allora io qui ho come l'idea che nella parte centrale di dicembre adesso andiamo a vedere anche il 10 di spade però è un po' come se usciste dall'ombra magari non sapete bene da che parte andare perché tutte le carte sia il mago che l'asso di bastoni che sono la carta di azione sono girate al contrario quindi è un po' come sì ok però intanto intanto quello che sento è che sento proprio una sorta di restyling a livello di della vostra figura può essere l'abbigliamento può essere un cambio di capelli è come se ci fosse un momento dove tenderete a curarvi molto di più e vi dico sarà un momento di forte entusiasmo e come appunto come vi dicevo prima lasciarsi indietro le zone buie le zone d'ombra andiamo a vedere il 10 di spade appeso e 3 di pentacoli come con questo 10 di spade se si chiudesse il ciclo il ciclo dei 2-5 e della torre probabilmente c'è qualche cosa o come vi dicevo prima può essere nel modo in cui voi valutate l'incontro intimo può essere qualche cosa che riguarda il passato può essere il crollo di queste certezze che voi avete che è come se vi avessero dato una sorta di carenza e qui però per chiudere questo ciclo per pensare al futuro è un po' come se vi riprendeste in mano la vostra persona ma può essere anche il andare a farsi fare un massaggio andare a farsi fare non lo so qualche cosa che vi faccia sentire bene dentro sapete ci sono anche può anche essere una passeggiata e quando poi è finita alla persona cambia proprio la faccia cambia proprio l'energia vi dico nonostante tutto la torre 2-5-10 di spade c'è un 9 di coppe alla fine quindi tutto questo processo di distruzione per ristrutturare alla fine vi porta al 9 di coppe vi porta all'appagamento interno vi porta all'appagamento emotivo andiamo a vederlo e qui comunque c'è anche l'appeso ah ce l'ho ragazzi io credo che qui vi interessi qualcuno per chi ha già puntato una persona credo che qui vi interessi qualcuno che non avete ben chiaro se questa persona perché è come se non si muovesse cioè magari sono di quelle persone educate che vi rispondono sempre ma non prendono mai l'iniziativa e qui è un po' come capire poi sento che vi come vi posso dire vi corazzerete duro sfoggerete ogni vostra arma di seduzione nella parte centrale di dicembre ma è un po' come se poi alla fine capiste che con questa persona o si può rimanere solo amici o bisogna partire dall'amicizia questo ce l'ho chiaro l'amicizia è un sentimento fondamentale tra di voi la la lealtà perché qui c'è un tre di spade un tre di coppe datemi una carta per questo tre di coppe o può anche essere che con questa persona si possa essere solo amici perché questa persona è già impegnata sta di fatto che bisogna puntare sugli affetti e i sentimenti genuini vi dico con questo tre di spade con questo tre di coppe potrebbe anche esserci una tentazione al tradimento però poi essendoci anche un sei di pentacoli non lo so lo sento proprio perché anche il tre di coppe è una carta di festeggiamento tra amici è come se vi si perdeste l'illusione di poter costruire qualcosa con questa persona anche magari di non ufficiale perché questa persona o preferisce essere amici e rimanere amici oppure una di quelle persone che va presa poco per volta va presa alla larga quindi è come se ci fosse prima il bisogno di frequentarsi di conoscersi come amici prima di tutto no andiamo a vedere gli angeli che cosa vi dicono ecco infatti giocosità per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te qui c'è stata qualche delusione ragazzi perché comunque c'è un 5 di pentacolo e il contrario c'è un 5 di coppe c'è un appeso che mi dice che c'è qualche cosa da perdonare fatemelo sapere nei commenti se comunque la stesa vi è stata utile se vi è dato degli spunti di riflessione fatemelo sapere con un like se avete piacere potete comunque iscrivervi potete condividere il video o potete abbonarvi al canale mi dimentico sempre questo ultimo pezzo ragazzi che dire io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio non mi veniva che cosa era l'altra cosa che dovevo dirvi e niente e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao